Amici di Altro Campo bentornati, questa sera ci stiamo guppando di calcio, abbiamo sfatato un tabù, è la prima volta che lo facciamo, lo stiamo facendo con Giacomo Gallino della Buttigierese 95, una squadra di seconda categoria che abbiamo deciso di seguire per capire come si svolge questo sport che è il più praticato e il più amato in Italia ad un livello in cui i giocatori sono dettati esclusivamente dalla passione per il ballone. Abbiamo seguito la squadra in un ritrovo domenicale, quindi la partenza per la gara di campionato, la gara stessa e poi il ritorno. Abbiamo fatto per capire un po' come si svolge questa dimensione che è una via di mezzo tra la passione per lo sport e anche la passione per il fatto di stare insieme in una squadra, quindi condividere qualcosa con degli amici. Andiamo a vedere il servizio. E' un'altra cosa che si svolge, e' un'altra cosa che si svolge. Andiamo nel caffè, guarda. L'azione della lingua è stata velocità. Sì, guarda. Ma che vero è che è una cattura un'idea della cattura. Non è un problema. No, non è vero. No, non è vero. Non è vero. Non voglio... Non voglio... Non è vero. To Boston, a shout out to Boston, a shippin' up to buy my brand new! Io ho quattro posti in macchina, ragazzi! Digi, ti lo carica! Lo prendi buono! I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making up and she took out my pants. But then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still want to use my TV show. La è stop, sistemano bene sto campo. Qua settimana ce l'hanno ben fatto per tutto l'anno. Iniziano sempre a fare le toppe, all'antoppare. Al fine non scoppone niente. Il cappetto sotto, ah no no, lo rifacciamo, lo rifacciamo, buttiamo giù i pepini. Sempre l'intuale. E' arrivata una bella squadra. Anche Val Fenera c'è stato un po' di maletta. Poi noi il Val Fenera ce lo diavamo da macchina. C'era il Carrino, il Tennis. C'era il Carrino, il Tennis. In Ciletta, poi c'era il Pissuoli. A me c'era anche un po' di successo. La Ratmos è l'anno dal l'anno dopo. No, c'era Simona. E' un anno dopo l'anno dopo l'anno dopo. E' comunque iniziato l'anno dopo l'anno dopo. Un bel campo di patate oggi, ragazzi. in Cilatino. No, V heavens! In Cilatino! Vosia era Meyer! È un anno és molto . L'altro ha avuto in questo modo i data removed. Così dall'anno passano a meazzi che non stai 출ai. Cosa è la Teenigi nella vita meanwhile? Chi ve ha più l'anno dopo? Cosa è la selezione delle maniere? E' un anno dopo? E' un anno? Qua ho la sua subлавire? il campo quello che per noi ci metterà sicuramente in difficoltà perché è piccolino, stretto e ci crea dei più grossi problemi facciamo attenzione soprattutto dietro una rimessa laterale come vi siete accorti arrivo immediatamente in area e sono dolori a livello di formazione di modulo non cambia assolutamente nulla da domenica scorsa e la terza è la quarta perché siamo noi che si scontano quindi dobbiamo cercare di fare il risultato un last call for alcohol so finish your whiskey or beer closing time you don't have to go home but you can't stay here I know who I want to take me home I know who I want to take me home I know who I want to take me home take me home lui sul primo, chiesa? io sto un po' sempre dietro, io vado in mezzo tu sempre sul secondo qualunque posizione prima, prima, il primo palo noi entriamo lì, lì facciamo male sul primo palo sul primo palo closing time this room won't be open tell your brothers or your sisters come so gather up your jackets move it to the exits I hope you have found a friend closing time every new beginning comes from some of the beginning comes from some of the beginning's end I know who I want to take me home I know who I want to take me home take me home I know who I want to take me home Grande! Grande Becca, dai! Dai raga! Grande! Grande Jack! Grande Jack! Grande Jack! Grande Jack! Grande Jack! Grande Jack! Carbono, teoria! Carbono, teoria! Ber Board! C'è il ден! non c'è grande I know who I want to take me home I know who I want to take me home I know who I want to take me home Take me home Un presidente Un presidente Paga la cena No, no, no No, no, no Dai, dai, dai Dai, dai, dai Closing time Every new beginning comes from some other beginnings and Fatti il ca Fatti con noi Ho sentito il ca Sì, sono in 3 del secondo tempo Con 20 Giustamente il 10 giocava anche un po' più avanti Nel primo tempo non era così tanto là Noi dormivamo forti Sì, noi abbiamo dormito Beh, nel secondo tempo sì che avete dormito Sì sì, abbiamo proprio dormito Mi metto in mezzo Ma poi partite dure così com'è il fisico dopo queste partite? Avete male per qualche giorno? Male dappertutto fino alla prossima domenica Mi hanno legnato fortissimo al primo tempo Non so perché Ma poi è bello andare domenica a lavorare E' preoccupata che stai chiesto Non so perché Non so perché Nel secondo tempo Non so perché Non so perché Nel secondo tempo E' stata parte Noi possiamo pareggiare O perdavamo e dicevamo Non abbiamo seguito la mano di questo Pareggiando che è un po' di riparo